Benvenuti in questo mio nuovo video, oggi siamo su Clash Royale per provare la nuova modalità che mi ha messo del torneo, ovvero questa bellissima modalità Coppa del Re Allora, premetto che so già che metteranno mazzi a caso e quindi non saprò usarli, molto probabilmente perderemo in due secondi Ma volevo dirvi che io su questo account sono un po' sfortunato per quale semplice motivo Questo qua è il mio mazzo che uso di solito, come potete vedere, aspetta, perché giustamente sono in Arena 6 e il mio massimo è stato quasi un ciccini per andare in Arena 7 Ma metteranno sempre i bastoni tra le volte all'ultimo, come al solito Comunque, io su questo account dicevo che ho un po' di sfortuna per quale semplice motivo Arena 6 ho trovato bauli magici, supermagici e tutto, ma c'è un piccolo problema Se scorriamo le carte C'ho queste carte qua, non c'ho nulla di potente che potrebbe aiutarci C'è nessuna leggendaria e tutto Comunque Poi, se questo qua vi piace e tutto, vorrei portarvi un nuovo video Usando un mazzo che raramente, una carta piuttosto che raramente viene usata, ovvero lo specchio Che è un mazzo, una carta che è molto usata bene e molto forte, vorrei farevi un video se volete Ora, io l'ho provato, perché la prima partita è gratis, ma io l'ho provato e l'ho perso Quindi usiamo una gemma Usiamo una gemma, ok Una gemma, 5 gemme per provare Per unirci a una nostra battaglia, alla sfida del Coppa del Re Allora, battaglia e si inizia Vediamo un po', speriamo in bene Lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando Allora, chiaroscuro Cioè, ho aiuto, ho già visto delle carte che non sono buone usare Buona fortuna Dai, siamo gentili, ma diamo un buona fortuna anche a te Vorrei mandare moschettieri subito, non ci manchiamo La fornace che sforna i ciccioli così Proprio che fanno un bobo, mi tamikaze Aia, it's a problem però It's a big problem Questo qua me l'ha messo qua, io lo blocco da di qua Questi qua, dai Con calma, con calma Megasgherro sopra Vai così, vai così, vai così Ok, un po' di danno me lo sono fatto ma Nura di grave Aia, mi hanno tirato giù Megasgherro sta attaccando come non so cosa Ora, 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 ora Non facciamo niente perché non dovrebbe essere problematico la questione Mettiamo la fornace qua Che sforna e li va dentro, ok Ora Lui ha finito l'elisir Quindi io direi di attaccare Ha finito l'elisir perché ha usato l'estrattore e tutto Lo userei questo qua per attaccare E Senza Dugio su segugio Attaccare via Lasciare attaccare Distruggere il mondo Ok dai Scolettieri andate 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 Vai così E uno l'abbiamo presa Calma, calma Allora Megasgherro in alto a sinistra che va ad attaccare Calma, 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 calma Non facciamoci prendere dalla foga Ok, ok Oh cacchio non l'ho visto Non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto Non fatto, non l'ho cagato Non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto Attaccate, attaccate a quello lì Attaccate a quello lì Ok Mocchietti, ritiratemi giù Ok Ora, calma Calma, calma Manca un minuto Scheletrini che vanno Boscaiolo che va a tirare giù la torre con la sua faccia E Possiamo farcela, possiamo farcela Non ci credo No, non ce la facciamo, non ce la facciamo Dai, moschiettiere Non mi fare girare E aia, non ce la facciamo mai più Aia, aia, aia Questi scheletrini Ok No, no, non voglio pareggiarla Aiuto, aiuto Ok Allora, 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 allora Allora, non facciamo cagate Una bella fulmine qua E che dai, che implodono male Vai, attaccate quelli Non mi attaccate la torre Non mi attaccate la torre No, porco Due Christie Lucio di culo Pareggiata Ma Lucio è mezzo andato Tre minuti per tirare giù Non posso sbagliare Cacchio No Non posso sbagliare Non posso sbagliare Non posso sbagliare Allora Guarda gli scheletri Andavano qua Cazzo Ho usato la fulmine Tira giù Tira giù No Moschettiere Cristo Santissimo Mega sghiaro Di qua Che attacca di qua Questo che attacca di qua Ok Mi mancano due minuti Non ce la faccio Difendermi Purtroppo non c'ho carte Che attaccano da lontano Mi hanno fatto una cagata L'affanbrodo Cacchio Stava andando bene Non ci credo È andata bene E io Purtroppo alcune carte Non sono buono a usarle Visto che non ce l'ho Facciamo un'altra partita Vediamo un po' Come siamo messi Allora Bocciatore X Arco X Bocciatore Eh le Mannaggia te Allora io manderei Subito un bocciatore Lui ha finito l'arco E io manderei La sfera è sfocata Che tira un po' giù Questo qua Ok Vai bocciatore Vai bocciatore Che tira le bocce Il problema sarà quello da fermare Noi ci mettiamo l'arco a X Qua Forse mi ha messo troppo indietro Per i miei gusti Però Dovrebbe andare bene Una bella scarica Dimmi che lo prende Dimmi che lo prende Ho gli scheletterini Ok Mettiamo la principessa qua Ok Non è forse fatto una cagata Però forse Cosa gigante Lo tiro giù Forse Cosa gigante Lo tiro giù No Non ci voleva Stacqua Porca miseria Non ci voleva Non ci voleva Non ci voleva Non ci voleva Ok Quello l'ho distrutto Però ci abbiamo Eh vaffanbrodo La tirata giù Ora Calma C'ha di nuovo Il bocciatore Allora Noi tiriamo Questo qua Mettiamolo di qua Proverei La principessa Da sta parte qua Sperando Che tiri giù Quello E ora I scheletrini Pronti Ad attaccare No Accendavo Il mega sghera Ho fatto una E ancora qualcosa Non lo so Mi inizia Mazzi Puntini Puntini Porco Due Connessione persa No Eh Ho fatto un freer Su No No Un attimo Un attimo Vai Mini pecca Subito Di ignoranza No E vaffanbrodo Anche la connessione Ci mette adesso Eh Ci mette anche la connessione Porco Tutto Di ancora una E siamo fuori Il mio premio 130 monete Due carte Onesto Ma che sfiga Che c'ho La mongolfiera Scatenata Ecco La mongolfiera Già a me non piace Quindi passiamo Messi bene Ora Calma Strega Strega in basso Lui ha messo Quello lì Che potrebbe essere Un problema No Ah mouse Di puntini Puntini Ok Scheletrino Stiamo attenti Sulla destra Che secondo me Vai Ci blocca L'ho bloccato No Aspetta 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 Ora 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 Vai attacca Furia Mettiamo una scarica Qua Guarda come attacca Da chi la tira giù Da chi la tira giù Da chi la tira giù No Ok No Ok Ora Prociva Ah no Aspetta C'avevo un scudo Ho fatto una cagata io Non mi ricordo Per come carte Non rieso a usare Perdonatemi Ora Non ci voleva Qua Dai Due colpi Ancora uno Ancora uno Vai così Una torre Ci abbiamo state a casa Ora ora Tranquilli Tranquilli Scheletrano Tranquilli Io punterei Sulla difensiva O prenderei La torre Sulla destra Puntiamo La torre Sulla destra Allora Scarica Questi qua In modo di non farmi danno E via Non mi ho preso Ok Is a problem Congilati Congilati No Ok Valkyria Vieni qua Dai Valkyrietta Valkyria Non mi far arrabbiare Ok La Valkyria Che si fa fuori Quelli Un minuto Stare attenti Sulla destra Difenderci Sulla destra Sinistra Scusatemi Ora Ci abbiamo la strega Difendiamoci qua Sgherri qua Non ho fatto una cagata Valkyria qua Ho sprecato la Valkyria Probabilmente Probabilmente si Però Dovrei farcela A salvarmi Il chapalette Ok Strega Di qua Trenta secondi Trenta secondi No 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 Giccio Fermati 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 Fermatelo Fermatelo Ok Valkyria Di qua Valkyria Valkyria Scarica di qua Scarica di qua Scarica di qua Scarica Scarica Ok 10 9 8 7 6 Dai Su 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 Si Una corona Allora Ti ho studato Per questo episodio è tutto Da Dix è tutto Vi invito a lasciare un mi piace Un commento E nella prossima Vediamo se riusciamo ad andare avanti Lasciate un mi piace Un commento se vi è piaciuto E da Dix è tutto Ciao a tutti